Nel mare di Ulisse, dopo millenni di esplorazioni, scambi, conflitti, alla fine degli anni settanta in Italia è arrivato il surf. Onde nostre dal 2010 ha cercato di intraprendere una ricerca, la ricerca delle onde, questa grande ricerca di questa piccola storia. L'importante è che ci siano le onde, poi dopo tutto il resto, come diceva Califano, e noi. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.